Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei ci troviamo qui sempre su Skyrim con un altro episodio di lunedì mattina lunedì mattina che sarà abbastanza tranquillo e calmo vi auguro poi appunto un buon inizio settimana anche a tutti quanti voi e come potete ben vedere con la neve che cade dal cielo che ci vorrebbe proprio perché con tutto questo caldo un po' di aria fresca sarebbe ben accetta ci troviamo ancora con i nostri due amici Soglaf e Liglade ormai siamo diventati amici come potete vedere dai miei indumenti mi hanno preso nella loro giurma abbiamo deciso di ritornare a Soulstay in Marroccia del Corvo perché non lo so mi mancavano queste terre ma più che altro perché voglio farvi vedere un qualcosa ma prima di andare a vedere il luogo come ormai facciamo praticamente in ogni episodio vi invito a lasciare un like, un commento ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando attivate la campanellina se volete supportare me e vi stanno piacendo i miei video e tutto quello che sto realizzando detto questo possiamo aprire la mappa ci troviamo esattamente qui vicino alla vecchia fattoria Attius ma non è in questo posto che dobbiamo andare ma dirigerci verso nord il luogo da raggiungere amici miei è la grotta di Frossel una volta giunti sul posto amici miei ci troveremo davanti questo panorama splendido questo mare calmo le onde che lievemente si infrangono lungo la costa e ci abbiamo anche un'ostrica buona abbiamo trovato due perle ottimo molto bello questo posto mi ricordo che la prima volta che raggiunsi questo luogo ne rimasi molto colpito soprattutto da quello che troveremo lì all'interno proprio dentro la grotta di Frossel ma prima però di andare da quella parte vediamo un po' cosa c'è vicino a questo accampamento troveremo un campo distrutto e devastato da chi? dai nostri amici Reackling come potete vedere questi predoni che erano qui forse ad alloggiare sono stati attaccati durante il loro soggiorno su questa spiaggia dei piccoli omini blu con le loro lance li hanno conficcati per benino addirittura questo qui stava forse dormendo ed è stato ucciso vediamo se hanno qualcosa con loro come sempre dell'oro e dei grimaldelli addirittura anche una pozione di cura minore potete se volete recuperare anche le lance vediamo un po' quest'altro cosa di bello nulla solo delle vesti e delle armi vediamo se ci sono altre cosucce da recuperare ma non penso perché questi barili non si possono prendere qui è sulla destra se volete ci sarà una vena d'oro e se avete per caso un piccone potete tranquillamente picconare e recuperare dell'oro grezzo così poi potete farci dei lingotti d'oro e così via recuperiamo anche un'altra ostrica questa volta sempre due perle e c'è poi la barchetta con la quale forse i nostri due amici sono arrivati qui una volta esplorata questa zona se volete potete recuperare quella radice di Nirn se ne avete bisogno per la creazione delle vostre pozioni ma adesso è arrivato il momento di entrare lo si può capire che ci sono i re-hackling da queste sculture fuori all'entrata e tornando al discorso che stavo facendo prima la prima volta che mi trovai qui e entrai in questa grotta mi ritrovai una scena molto molto divertente vi dico solo un cavallo di ghiaccio non ci resta che entrare siamo dentro questa volta cercherò di svolgere il tutto nella maniera più fortiva possibile come abbiamo notato anche da fuori altre sculture che ci fanno capire che all'interno di questa grotta glaciale ci saranno altri re-hackling una curiosità di questi piccoli individui di questa tribù di questo gruppo appunto di creature molto affascinanti che sono appunto i re-hackling è che loro hanno l'abitudine come lo si può notare da questi resti sparsi in giro di recuperare per tutta Solstame degli oggetti di qualsiasi tipo possono essere in questo caso delle marmitte dei vasi ma anche oggetti molto più rari ed è quello proprio che hanno fatto che scopriremo ora più avanti quindi a livello di nemici incontreremo i re-hackling stessi e le loro bellissime cavalcature quei cinghiali giganti che loro amano cavalcare quindi siamo molto attenti e cominciamo a scendere mi dispiace ucciderli ma dobbiamo farlo mi hanno rilevato soprattutto il loro cinghiale da battaglia il bristleback gli diamo anche questo perfetto sangue ovunque che schizza sulla nostra faccia mi è arrivata dritta in testa una lancia con lo re-hackling guerriero che è qui pronto per cercare di difendere il suo luogo ma più che altro i suoi oggetti ma noi con grande forza e destrezza con questo pugnale conficchiamo nel povero amico un colpo fatale che ne provoca la morte qui vicino a questi tamburelli addirittura una pietra lunare che recuperiamo ci sono delle scarpe ma anche una gemma dell'anima comune dei rami di cardo del grano e un altro forziere questo forziere con due pezzi d'oro e uno smeraldo perfetto è molto curioso vedere quanti oggetti particolari si possono trovare addirittura lì vicino a questi piatti e ciotole varie una pietra lunare raffinata comunque continuiamo a proseguire cerchiamo di uccidere quest'altro cinghialone gigante è bastato un semplice colpo per atterrarlo cerchiamo di esplorare al meglio questa grotta qui cosa hanno messo da parte dei altri lingotti di ferro una cipolla un porro dei bicchieri continuiamo a proseguire qui sulla destra su questa roccia di ghiaccio troveremo un forziere con un ametista e altro oro come potete vedere ci sarà anche una pala messa un po' lì a caso altri oggetti vari a questo punto ci sarà un bivio possiamo andare sia a destra che a sinistra esploriamo prima questa parte qui perché ci saranno degli oggetti come questi barili con dietro oh non me la ricordavo questa cosa i reacling che sono comparsi così a difesa di quella cassa di quel forziere proviamo a lanciargli un essere di ira all'inmezzo per vedere cosa fanno combatteranno con questo mostro enorme che ha un martello di ossa di drago e loro poverini con delle semplici frecce cercano in tutti i modi di contrastare questa creatura e con grande coraggio riescono nell'impresa in tutto ciò ancora non ci hanno visto questo grazie al perk di illusione che ci consente di lanciare le magie in modo molto più silenzioso in questo modo non farci scoprire comunque il nostro amico è riuscito nell'intento noi possiamo molta tranquillità andare a aprire questa cassa con all'interno un flauto 67 pezzi d'oro e una pentola di ghisa anche le ricompense dei bauli molto particolari ci sono dei vasso in giro un altro baule con nulla all'interno qui sulla sinistra una borsa di monete oh attenzione però un altro reacling l'essere di ira se ne accorge e attaccano questa spadata e il sangue che comincia a perdere il reacling guerriero ma questa è una tribù molto forte molto coraggiosa ed è contento e insulta per l'uccisione appena fatta ma noi gliene metteremo un altro metteremo alla prova questo coraggio delle creature dei piccoli omeni blu che vivono a solstain ma anche lui dice addio ci saluta e noi possiamo recuperare questa borsa di monete e una pozione della magica suprema e un topo magico di pacificazione qui invece sulla destra di questa cassa di legno troverete un altro forziere della compagnia dell'imperio orientale se vi ricordate ne abbiamo trovato un altro identico quando abbiamo fatto il video l'episodio sulla follia di rodulf che se non l'avete visto vi invito a farlo al massimo ve lo lascio nelle schede proviamola ad aprire questa serratura difficile ok ce l'abbiamo fatta alla grande scassinare continuiamo a mentare 8 pezzi d'oro una pozione di cura suprema un rubino perfetto uno smeraldo e il pendente dell'impero orientale come avevo anche accennato ce ne saranno 33 sparsi in tutta soul stain vediamo qui a sinistra c'è dell'oro vicino a questo pugnale di ferro recuperiamolo voglio recuperare anche questo messolo di legno non lo so per cucinare qualcosa di buono al mio amico sven qua a destra un baule con nulla all'interno e se volete un'altra vena d'oro da picconare ora quindi non ci resta che proseguire oh attenzione un altro che sbuca fuori per fortuna che abbiamo ancora la nostra evocazione che è qui a difenderci il combattimento mamma mia per poco è lì in fin di vita arriviamo poi noi e con un bel colpo gli diamo il colpo di grazia per non farlo soffrire ulteriormente ce ne sarà un altro che ci ha visto quindi mandiamo come supporto il nostro essere d'ira divertiamoci anche lanciando un campione scheletrico che poi sicuramente farò sparire perché voglio farvi vedere la parte finale con molta calma qui nascosto in questa cavità ghiacciata oltre a un reckling che fiero esce da sottoterra che uccideremo anche lui ci sarà ben nascosta un'altra cassa un altro baule con all'interno un bricco un calamaio tre grimaldelli 68 pezzi d'oro una pozione di cura suprema e una pozione di ristoro energetica recuperiamo il tutto guardate intanto che lo scheletro il campione guarda a terra al cadavere dell'avversario appena sconfitto ci ritroveremo questa enorme sala con una strana scena non so se voi siete mai stati in questo posto ma ci saranno sette reckling più uno a cavallo del suo cinghiale che sono impegnati con una sorta di devozione nei confronti di una struttura una sorta di statua creata da loro stessi è stata creata poi lo vedremo effettivamente da vicino da tutto quello che loro raccolgono ecco qui già mi hanno scoperto già hanno sentito la mia presenza guardate come corre qui allora ci servono le maniere forti ci serve un buon aiuto i nostri scheletri come sempre per fortuna noi rimaniamo invisibili a tutto ciò non ci pensano ma le frecce sono tantissime gli scheletri cadono sotto i colpi dei piccoli reckling guerrieri forse ce la faranno non lo so proviamo a continuare a dare supporto ne sono rimasti tre tre contro due sono morti perché l'elettricità è passata da un corpo all'altro e quindi anche il danno li ha colpiti simultaneamente portando la morte a tutti quanti ora possiamo esplorare per benino con la massima tranquillità e andiamo a vedere questo idolo che stavano appunto venerando è una carrozza con un cavallo cavallo ricostruito dagli stessi reckling con gli oggetti che loro amano recuperare ci sarà quindi un teschio delle corna che effettivamente non staranno a simboleggiare proprio le corne effettivamente della creatura ma più che altro la criniera di questo cavallo di ghiaccio come potete ben vedere l'utilizzo di questi ramoscelli di questa paglia di quest'erba è stata anche utilizzata per creare la coda vi dicevo anche prima ve l'ho accennato che i reckling non è che abbiano una grande cultura come creature proprio ma loro si divertono a raccogliere tutte queste reliquie questi oggetti intorno a tutta soulstame formando proprio un attaccamento e l'abbiamo visto quasi una venerazione di tutto ciò intanto apriamo questo baule con altre ricompense un pugnale orchesco questa volta incantato della paura 61 pezzi d'oro una pergamena della violenza devestita vagabondo di evocazione maggiore un anello di recupero e anche un anello con rubino ci sarà anche dell'oro da recuperare su questi barili un altro baule ma con nessun oggetto addirittura nascosta qui dietro un'ascia da guerra da etrica sacra un mucchio di vestiti eleganti rubati chissà chi trovati in giro un lingotto di corundum e qui tanta bella roba amici miei granato due granati per l'esattezza dell'oro vari anelli tantissime borse di monete recuperiamo tutto e un sacco di oro molto molto interessante addirittura qui un'altra borsa di monete e non poteva non mancare una storia di bella prendiamola qui intorno non ci sarà nient'altro da recuperare tranne giustamente come abbiamo ben capito da questa esplorazione e vari oggetti particolari quindi ora da qui se non ricordo male dobbiamo salire e poi ci ritroveremo l'uscita davanti ed è infatti eccola laggiù finalmente fuori ed è arrivato il momento come ogni video di salutarci io con questo amici miei vi ringrazio come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento facendomi sapere se eravate a conoscenza del cavallo di ghiaccio iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo in un prossimo video ciao